Buongiorno a tutti, oggi sono in via di Vittorio 24, Rivalta, sono proprio ridosso del centro storico e vi mostriamo questo appartamento del primo piano con ascensore senza barriere architettoniche. L'appartamento è di circa 59 metri quadri, non vi sono barriere architettoniche e questo lo rende un appartamento ancora più appetibile. La zona giorno è l'unico ambiente con parete cotture lineare. La particolarità dell'immobile è che ogni ambiente della casa affaccia e accede al terrazzo di circa 14 metri quadri che offre un vero e proprio spazio in più. Dal disimpegno possiamo arrivare al bagno di servizio e alla camera matrimoniale. Questo appartamento è un'ottima opportunità di investimento, è privo di barriere architettoniche come vi dicevo, ha riscaldamento autonomo, ha un piccolo terrazzino, cosa che ricercano in molti in quest'area ed è comodissimo ai servizi perché siamo proprio al ridosso del centro paese, per cui non vi resta che chiamarci e venire a vedere questo nuovo appartamento che potrebbe essere il vostro nuovo investimento. Grazie.